I cilindri Metalwar della serie Electro ISO 155552 ti prestano a moltissime applicazioni, con libertà nel programmare i cicli, le velocità, le accelerazioni. Qui vogliamo mostrare come uno stesso cilindro può essere utilizzato per muovere grandi masse a velocità ridotta, oppure piccole masse con accelerazione a velocità elevata. I cilindri che mostriamo sono della taglia 32, azionati dal motore brushless. Sul cilindro di destra applichiamo un totale di 100 kg di massa. Il cilindro di sinistra invece è stato programmato con accelerazioni superiori all'accelerazione di gravità, per cui il piattello sul cilindro scende a velocità superiore rispetto alla pallina appoggiata su di esso. Si vede così che la pallina resta in ritardo e si stacca dal piattello.